Vedere lo stadio è rifatto, però nessuno sa perché io mi sono, diciamo un po' per questo che accennavamo prima, il rapporto con le conferenze stampa, ho fatto un po' un passo indietro per quanto riguarda le conferenze stampa, ma ne abbiamo fatti altri 100 per quanto riguarda la ristrutturazione dello stadio, stiamo completando il progetto, l'assessore ne ha al corrente, credo che subito dopo tra l'8 e il 15 massimo siamo venuti e presenterò il progetto, la bozza di progetto, in base poi ai suggerimenti che ci daranno i tecnici del comune faremo le varianti, la proposta è stata già presentata dall'associazione Alconi, sta procedendo tutto anche in maniera rapida, in maniera rapida in modo tale che a fine campionato si possano iniziare i lavori. Io ho espresso agli architetti la copertura della Minghella, rivedere sicuramente quella tribuna. Io dissi una cosa all'inizio, proprio con un giornalista di un network, che già all'inizio, prima di cominciare, già faceva la domanda, per me questo significa portarsi sfortuna da soli, no? Sei mesi prima fai la domanda, che succede se è giugno? Allora, io per il mio credo, per me o vinciamo tutti o affondiamo tutti, questo in tutte le mie cose è stato sempre così, quindi l'alternativa qual è? Vinciamo tutti, non c'è l'alternativa, non esiste, siamo partiti con un'idea, la vita ci ha messo davanti, chiamiamola vita poi, perché nella vita ci sono problemi ben più seri, ci ha messo davanti 3.000 ostacoli, una buona dose di sfortuna, non ho assolutamente nessun rimorso di non avere usufruito di quella opportunità, anche perché l'Arezzo era nell'impossibilità totale di prendere quella opportunità, a buon intenditor poche parole. È stata una scelta quarta? Obbligata, se l'opportunità ricapita quest'anno la prendiamo e come. Nessuno, e qui parlo anche di mezzanotti, tutti hanno criticato, criticano il nostro mister, a torto ragione non lo so, però nessuno dice che noi siamo entrati in semifinali di Coppa Italia, è un'altra opportunità per essere ripescati, nessuno ne ha mai parlato di questo, nessuno ha mai detto niente, va bene così. A mettere sull'altare un allenatore e poi mandarlo all'inferno la sera perché ha perso e poi il giorno dopo vince rimetterlo sull'altare, questo è un giochetto che a me non piace, nessuno di quelli che collaborano con me, io non ho mai fatto un trattamento del genere. Un fatto è certo, non intendo suicidarmi da solo, la fiducia che ho dato resta, però alla fiducia che ho dato e che resta, lo ripeto, adesso devono seguire i fatti.